Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Gregory Baltoro 65, uno zaino enorme da 65 litri con un sacco di caratteristiche, un sacco di tasche, un sacco di feature che adesso vediamo insieme all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito guardando le caratteristiche di questo Gregory Baltoro. Innanzitutto vi dico che esiste anche la versione da 75 litri, oltre che questa da 65, ed anche le versioni da donna. Tutte hanno uno schienale Air Cushion con sistema Free Float di Gregory e sono realizzate con un doppio materiale, ovvero un nylon 210D e 420D. Nel mio caso, nella versione da 65 litri, pesa 2,4 kg. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche, iniziamo con i pregi difetti. Iniziamo come al solito parlando dallo schienale. Come vi dicevo, troviamo la tecnologia Air Cushion, ovvero uno schienale ergonomico, sicuramente, che sta molto a contatto con la nostra schiena, ma che è realizzato in 3D ed è realizzato da vari scomparti separati tra loro che vanno a far passare l'aria. Quindi davvero troviamo uno schienale che è molto molto areato. Io l'ho utilizzato in giornate anche abbastanza calde e non ho avuto grossi problemi di sudorazione, quindi sicuramente è uno schienale molto molto ben fatto. Poi, su questo schienale troviamo anche un trattamento anti-odore per quando sudiamo, per evitare che si impregnino i batteri e ci possa essere cattivo odore. Nello schienale troviamo anche la tecnologia Free Float, che tra gli spallacci e la fascia lombare fa sì che lo zaino ci assecondi veramente molto molto bene. Vi assicuro che su uno zaino così grosso fa veramente la differenza per non sentirsi portati in giro dallo zaino. Cioè, noi quando camminiamo sentiamo che lo zaino davvero ci asseconda bene, ha un'ottima sospensione e non ci costringe i movimenti. Quindi, sistema Free Float in questi zaini così grossi è davvero un must. Scendendo per quanto riguarda la fascia lombare, troviamo una fascia lombare abbastanza grossa, molto molto generosa. Se siete di taglia piccola, comunque avete una vita molto snella, potreste avere qualche problema nel chiuderla. Il materiale è anche lui davvero molto traspirante e troviamo due tasche enormi, davvero enormi. Cioè, possiamo mettere dentro anche una mirrorless, possiamo mettere dentro tantissimi oggetti in queste tasche, una destra e una sinistra. E in più, invece, se dovessimo avere una taglia abbastanza grossa, possiamo essere delle persone belle grosse, possiamo andare ad allungare la fascia lombare con uno strap messo nella parte anteriore, così proprio da regolarla al 100% in base alla nostra vita e da avere il miglior comfort possibile. Per quanto riguarda, invece, la chiusura sulla parte anteriore, classica con una clip, si può chiudere facilmente, regge anche a pieno carico, però non abbiamo la possibilità di richiudere il cordame in eccesso e questo non mi piace tanto, soprattutto su uno zaino così grosso. A livello di chili trasportabili, Gregory, se non ricordo male, dichiara 24, io sono arrivato a portarne 19-20 e diciamo che comunque è fattibile. È molto fattibile, con questo zaino potete portare anche i 20 chili sulle spalle, naturalmente poi dovreste essere allenati anche per portarli sulle gambe, però sulle spalle e sulla fascia lombare non si sentono, davvero, anche se portate i 20 chili non avrete male a schiena, fascia lombare, spalle, via dicendo. Infine, per quanto riguarda gli spallacci, allora, questi hanno una sezione normale, non è troppo grossa, però sono veramente molto molto imbottiti, svolgono molto bene il loro lavoro, non tagliano le spalle anche quando portiamo 20 chili. Sulla parte anteriore poi troviamo il classico cordino da andare a chiudere per scaricare il peso anche sulla parte pettorale, con l'all'interno del fischietto e sullo spallacci di sinistra c'è anche la possibilità di andare a riporre i nostri occhiali per evitare di igraffiarli. Continuiamo la nostra recensione passando alla parte posteriore, iniziando ad analizzare uno dei due lati che, in questo caso, non sono simmetrici, quindi li vedremo entrambi. Cosa troviamo? Nella parte bassa troviamo una tasca a rete dove poter riporre una borraccia o comunque o qualcos'altro. Possiamo riporre anche un cavalletto fotografico, perché poi possiamo farlo uscire e utilizzarlo per la lunga. Diciamo che non è il posto giusto per la borraccia, poi il posto giusto lo vediamo dopo, però comunque ci sta. Nella parte superiore, per piano salendo, troviamo due cinghie da andare a chiudere per andare a comprimere lo zaino. Sono entrambi apribili, con clip, e molto classico, molto semplice. Da questo punto di vista, questo lato è veramente molto semplice. L'altro lato è uguale identico, nel senso che ha le due cinghie da andare a chiudere per comprimere lo zaino. Nella parte bassa, però, non ha questo tipo di tasca a rete per andare a riporre la borraccia, ma ha una tasca che proprio fuoriesce, completamente indipendente, dove andare a riporre la borraccia. Vi assicuro che questa tasca è veramente spaziale. Io mi ce ne sono innamorato, perché è davvero facilissimo prendere e riporre la borraccia in autonomia. Cioè, secondo me, questo tipo di tasca dovrebbe esserci su tutti gli zaini, a prescindere, perché è veramente bellissima e fatta bene. In più, volendo, se invece non ci serve, possiamo raccogliere all'interno dello zaino e nasconderla in modo tale che non dia fastidio. Continuando, passiamo alla parte posteriore vera e propria, perché anche qua ce n'è da dire. Innanzitutto, come volete vedere, troviamo una parte posteriore composta da una tasca a rete da poter andare a aprire da una semplice clip. Qui dentro possiamo mettere una giacca impermeabile, un qualsiasi cosa che vogliamo avere a portata di mano. Sotto questa tasca ce ne sono due verticali, una posta sulla destra e una sulla sinistra, che tornano veramente molto utili per metterci delle cartine, degli oggetti piccolini. Sono molto alte, non sono tanto profonde, ma molto alte, quindi davvero ci sta dentro un bel po' di materiale. E poi sono due, una a destra e una a sinistra. Sempre in questa parte, poi, troviamo anche la possibilità di aprire lo zaino a forma di U, in modo tale da poterlo aprire nella parte alta e poter prendere gli oggetti posti in basso senza dover far tanta fatica. Questo zaino, inoltre, è diviso all'interno perché in basso troviamo la parte per lo sacco a pelo con la sua cerniera dedicata per poterlo aprire. Mi piace la divisione perché una zaino a 65 litri è inevitabile e soprattutto poi nella parte bassa troviamo anche delle cinghie ulteriori per poter andare a portare del carico esterno. Per quanto riguarda, invece, la parte superiore del cappuccio, troviamo un cappuccio davvero imponente, troviamo addirittura tre tasche. Una piccola 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 messa proprio nella parte superiore del cappuccio, ideale per metterci dentro i documenti qualche soldo, comunque, roba abbastanza piccola. Sempre nella parte superiore troviamo un'altra tasca più classica dove andare a riporre all'interno diversi oggetti perché comunque la tasca è veramente grossa e poi troviamo la tasca, invece, riposta all'interno del cappuccio dove innanzitutto troviamo il rain cover ma poi comunque possiamo andare a mettere altri oggetti. Quindi, davvero, il cappuccio così grosso possiamo riempirlo davvero con tanti oggetti. Mi raccomando, fateci attenzione perché lì non è mai il posto giusto dove sovraccaricarlo di peso. Per quanto riguarda, invece, la chiusura della parte superiore è molto semplice. Tramite un cordino la chiudiamo utilizzando le due mani la riapriamo. Abbiamo anche la cinghia passante superiore nel caso di portare una giacca o volendo anche una corda. Quindi diciamo che, in generale, anche la chiusura superiore è ben fatta. Infine, arriviamo al comparto acqua. Allora, come vi dicevo, possiamo portare due borracce di cui una riusciamo veramente a prendere molto facilmente da soli. All'interno c'è la possibilità di portare la sacca idrica con possibilità di far uscire la prolunga sul davanti e, come vi dicevo, c'è il rain cover dato in dotazione che, attenzione, però, è fatto proprio su misura per questo Baltoro e se avete qualcosa all'esterno difficilmente riuscirete a coprirlo. Arriviamo, dunque, alle conclusioni per questo Gregory Baltoro 65. Viene venduto a un prezzo ufficiale di Gregory di 330 euro. All'altro si trova sui 250. Ve lo consiglio? Sì. Sì, perché è vero, io mi ci sono trovato super, super bene. Portandoci 20 chili è stato veramente una goduria perché non li ho sentiti per nulla sulle spalle e anche poco fa la sua fascia lombare. Materiali ottimi. Davvero, materiali super. L'ho buttato destra e sinistra su rocce non ha avuto nessuno sfregamento, nessuna rottura, quindi veramente ottimo. È uno zaino perfetto se dovete andare a fare o il trekking in autonomia molto lunghi oppure dei viaggi. So che i 250 euro non sono pochi, però vi assicuro che questo è uno zaino che comprate oggi ci è andato avanti anche 10-15 anni se lo trattate bene perché davvero è uno zaino massiccio con il quale potrete fare delle spedizioni un po' in tutte le parti del mondo. Detto ciò ragazzi io ho speranza sia stato esaurante e esaurante anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!